cari amici benvenuti oggi ho intenzione di intraprendere con voi una nuova avventura la realizzazione collettiva di un'opera alcuni ritengono che si tratti di un'attività individuale tuttavia vista la valenza che assume il nostro impegno occorre l'aiuto di tutti iniziamo la nostra nuova esperienza ogni dipinto è un'emozione unica dove l'autore dell'opera similesi ma nella stessa in quest'ottica l'artista viene a identificarsi con il soggetto dipinto nel nostro caso si caratterizza nel dettaglio di un laghetto un tempo l'acqua era incontaminata ciò viene evidenziato dal colore blu con il trascorrere degli anni si sviluppa l'attività industriale a discapito dell'ambiente questo concetto si nota dal mutamento del colore del laghetto che dal blu passa al giallo inquinamento altresì incide sulla flora e la fauna che fanno da cornicio lo specchio d'acqua in origine le ninfee dai mille colori erano circondate da foglie anfibi successivamente si assiste alla moria dei pesci al ritrovamento di oggetti di produzione industriale tutto ciò intollerabile è il nostro dovere attivarci occorre che tutti partecipino a un'iniziativa di pulizia del territorio brindiamo a noi nella speranza che una condotta più cosciente possa rimediare almeno in parte al degrado che ci circonda iniziamo il cambiamento basta volerlo auguri a tutti per un futuro migliore un abbraccio